Dopo la caduta di alcuni calcinacci ieri pomeriggio in pieno centro cittadino, da uno stabile all'angolo tra via Diego Colamarino e via Comizia, Torre del Greco, questa mattina abbiamo raccolto le opinioni dei cittadini. L'ennesimo cedimento in città, che per fortuna non ha causato danni a persone o cose e che riporta all'attenzione la problematica della manutenzione dei palazzi storici. Tempestivamente l'aria è stata transennata, inevitabili però le ripercussioni sul traffico cittadino con la chiusura della strada. Che ne pensa del cedimento che si è verificato qui ieri in pieno centro? Secondo me è l'ennesimo dimostrazione che Torre del Greco ci sono palazzi fatiscenti e andrebbe fatto qualcosa. I proprietari non provvedono alla manutenzione? Eh, principalmente questo, dovrebbero essere appunto i proprietari a provvedere. Ogni volta si scongiura una tragedia? Sì, principalmente questo. E non solo, oggi problemi anche alla viabilità con ingorghi e traffico, la strada chiusa? Sì, è un'ennesima strada chiusa che anche se questo si potrebbe sfruttare per mettere la zona a trans-ZTL. Sono palazzi antichi, palazzi vecchi che devono essere, diciamo, fatti una manutenzione. I proprietari devono provvedere alla messa in sicurezza? Assolutamente sì, è una questione dei proprietari, non del comune. Per fortuna non è successo niente, nessuno si è fatto male. No, per fortuna no, non è successo niente, però questi sono dei piccoli grandi problemi di Torre del Greco, quindi tutti i proprietari dei palazzi dovrebbero avere più cura delle loro abitazioni. Non è la prima volta che si verifica questo in città? No, non è la prima volta, non sarà l'ultima perché è una città un po' fatiscente da questo punto di vista, una bellissima città ma un po' fatiscente. E ogni volta si scongiura la tragedia? Sì, si scongiura la tragedia e il problema è che quando poi avviene la tragedia si corre i ripari, questo è l'unico problema, ma non solo nostro ma di tutta l'Italia, quando poi succede la cosa si corre i ripari, non doveva succedere, eccetera, eccetera, eccetera. E poi la problematica si estende anche alla circolazione, alla viabilità con la strada chiusa? Ora c'è questa problematica di chiusura di questa strada e si intasa tutta la città. Vuole fare un appello da cittadino? Sì, che diciamo il comune ma anche i cittadini provvedono a mettere in sicurezza i loro appartamenti e i loro palazzi. Strada chiusa, lei sta passando con la moto sul marcio a piedi? Certo, purtroppo non hanno messo avvisi e quant'altro per cercare magari di capire. Era conoscenza di questo scedimento? Assolutamente no. Ma sono passato a fine ieri mattina e ieri pomeriggio e non c'era nessun avviso per dire che la viabilità non era... Cosa ne pensa? Purtroppo passano gli anni, passano la politica ma i guai sono sempre gli stessi, i problemi sono sempre gli stessi. Non c'è manutenzione sui palazzi storici? Assolutamente no. Assolutamente no. È rimasto tutto uguale, c'è stato il scedimento del palazzo ma così è rimasto. Penso che rimarrà così per parecchio tempo. Le responsabilità sono dei proprietari che non provvedono a una manutenzione? Sicuramente, sicuramente dei proprietari, sicuramente quello che penso è il mio pensiero della gestione della politica, della gestione insomma di come va Torre del Greco ma non da mo' dai tempi di mio padre, forse quando stava mio nonno si stava un po' meglio tra virgolette ma saranno un mezzo secolo che qua a Torre del Greco non va per niente bene. Un appello da cittadino? Fare qualcosa per Torre del Greco. Adesso sto vedendo. E che ne pensa? Bah, non posso pensare per niente, guarda, è uno schifo solo e basta. Non è la prima volta che succede in città? Eh beh, succede parecchie volte da parecchie zone, ora è successo pure qua. Secondo lei perché succede? Non c'è manutenzione? Non c'è manutenzione, non ci sono gli accorrenti per tambonare le cose prima che succeda. Che ne pensa del cedimento che si è verificato ieri in pieno centro? Meno male che non si è trovato nessuno nel passare. Poteva essere una tragedia? Certo, perché è molto frequentato qui. In effetti non sembrava poi pericolante, non sembrava. Ma questo crea problemi anche alla viabilità, oggi la strada è chiusa? Certo, è normale. Per la salvaguardia del cittadino hanno dovuto chiudere per forza.